Cari amici, il rosa nero d'Inghilterra. Quanto odio avere ragione. Odio da morire avere ragione. Anche perché la gente che mi dice bravo, no qualcuno c'è che mi dice l'occhio lungo, molti invece dicono eh che cazzo, però purtroppo ho ragione. Dicevo io che la vedo brutta perché quando questo Palermo non parte da favorito prende legnate. Quando parte, quando non è umile, quando non dà l'anima il 110% prende legnate. Per vincere dobbiamo fare la stessa partita che si è fatto contro il Genoa, contro il Parma e contro il Modena. Cioè proprio quando siamo messi all'estretto troviamo un avversario più forte. Infatti io quest'anno non ho visto squadre che ci hanno preso a pallonate. Facciamo un esempio. La Ternane in Serie C che si capiva che era un'altra categoria. O l'Avellino, sempre l'anno scorso. Cioè il classico squadro, il Bari, lo stesso Bari. Cioè squadre che nettamente sono più forti e se ci strappi un pareggio già devi essere super contento. Cioè proprio felice. No. E se no non ho visto. Perché il Paramo comunque si comporta molto bene quando affronta uno squadrone. Il problema è quando affronta la squadretta il Cosenza. Sul 1-0 c'è stato una sottostima dell'avversario. Si doveva finire quella partita 1-0 a fine primo tempo e si portava a casa. Invece li abbiamo fatti pareggiare all'ultima azione. pazienza. È andata così. Il Paramo ora serve a metà classifico. Cosenza con 3 punti meno. E probabilmente si giocava un'altra partita col Venezia. Questo però non lo sapremo mai. Abbiamo regato 3 punti una diretta concorrente per la salvezza. E gli effetti di questa squadra li conosciamo. Uno si chiama Brunori. Le qualità tecniche di questo giocatore non si discutono. Il problema è che gioca troppo per se stesso. Si fa qualche assist. Ma si vede che lui vuole tentare di far vedere agli altri Brunori e Brunori anche in Serie B. Che non serve perché è secondo nella classifica marcatori. Quindi l'abbiamo capito. Brunori è un attaccante da Serie B. Campionato che è sempre fallito. Io vedo molte analogie con il Giappone e questo Palermo. Il Giappone fa benissimo quando incontro una squadra che la sottostima. Germania e Spagna. Al di là del gol non gol. Però la Spagna magari si portava a casa il pareggio. Il Giappone si portava un pareggio che era un ottimo risultato. E ha vinto contro la Germania. Perché ha dato tutto? Conto il Costa Rica no. Il Costa Rica ci è partito troppo allegro. D'allenatore ha tolto 5 titolari. E loro si sentivano già acquasati. Come diciamo dalle nostre parti. E il Giappone ha perso contro il Costa Rica. Una squadra è una partita brutta. Giocata male. Però il Costa Rica ha vinto. La stessa partita contro il Venezio. Dobbiamo essere come il Giappone. Dobbiamo capire il Giappone. Ma quanto sono stati eroici i giapponesi contro la Spagna? Quando il Costa Rica è andato in vantaggio la Spagna si è cagata addosso. Più forti fisicamente, più forti tecnicamente eppure tatticamente il Giappone non ha sbagliato niente. Chiudendo ogni, ogni, ogni linea di gioco. Non sbagliando nulla. Questo essere il Palermo. Si allenano da quattro mesi insieme. Lo sanno fare. L'hanno fatto col Parma e l'hanno fatto col Modena. Quando vogliono lo sanno fare. E noi abbiamo un signor portiere. Il portiere Giappone fa cagare. Perché pure è basso. Non prende le palle troppo alte. Non solo la reattività importa. Noi abbiamo un portiere spettacolare. Dicevo un allenatore sul radio sportivo. Adesso ricordo il nome. Puoi sbagliare Moio ma puoi sbagliare. Portiere e attaccante. Noi le abbiamo. Quindi sono tutte cazzate. Il Palermo gioca al 110%. Ci riesce. Detto questo. E cosa è successo nella settimana? Ah ecco. Visto l'impegno. Gli ultra hanno dato il buona fortuna alla squadra. Urlando. Dicendo. Proprio in maniera molto aggressiva. Però dicendo i risultati possono venire o non venire. Poi quella è sfiga. Ma noi vogliamo l'impegno. L'impegno serio. Per questa importantissima partita. Il Benevento si è affidato a un allenatore emergente come Cannavaro che però ha fatto benissimo in Cina. E nulla. Dobbiamo vincere. Il pareggio serve a poco. Non è da buttare ma non serve a poco. La classifica è corta. Con tre punti si è a metà classifica. Però. Se una sconfitta sarebbe devastante. Dovrebbe essere la fine di Corini. Quante colpe ha Corini? Non tantissime secondo me. Ma ce li ha. Detto questo. Cosa è successo poi durante la settimana? È venuto Royal De Vries. Non so se ho detto la giusta pronuncia inglese. Questo è De Vries. Ma è di origine olandese. Non lo so. Lui è un esperto di marketing. E un ex amministratore. Mi pare delegato. Comunque amministratore di quello che riguarda il branco del marketing della Nissan. Che punta molto nel Regno Unito da sempre. Quindi non è l'ultimo degli stronzi. È uno che si sta facendo tutto il tour. È andato pure a Bombay prima di Palermo. E nulla. Sta valutando dal punto di vista del marketing che Palermo ha un grandissimo potenziale. Poi Torretta. I operai hanno la ditta che deve fare il campo di Torretta. Ha mandato a fanculo il comune di Torretta. Questo non riguarda proprio noi. Non direttamente. Ma il campo accanto. Che sarebbe stato anche per Palermo. Anche a uso del Palermo. Qualche volta in realtà. Certo non è bello che non si finirà mai il campo accanto quello comunale. È inutile che il sindaco di Torretta fa tanto il vago. Ma la colpa è pure sua. E poi che cosa possiamo dire? Cosa è successo di un bell'ora? Ah sì. City Group ha pure comprato una squadra brasiliana per tantissimi soldi. E tutti. E ora è venuta la gelosia. I nostri panormosauri. Però loro investono in Brasile. Allora Bahia è una città che è il doppio di Palermo. Bahia ha una storia importante. Ha vinto pure. Bahia ha uno stadio di 80.000 persone. Nuovo di zecca. Fatto per i mondiali. Il club attuale giocava in quello vecchio. Perché non poteva camparsi quello nuovo. Adesso ovviamente ritorneranno in quello nuovo fatto per i mondiali. Quindi hanno uno stadio moderno. Che era chiuso. Vabbè sta la stanza del Brasile. Fare il cattedrale nel deserto. O quasi. Hanno fatto un affare. Il City Group ha fatto un affare. Un sacco di soldi. Compresi i debiti però. E hanno fatto un affare. Perché è un club che può dare. Può diventare una B. Che investiranno tantissimo anche là. A noi non ci frega tanto. Se loro investono. Non investono sul Bombay o sulla squadra giapponese. A noi non cambia nulla. Non è che a loro. Non è che è una coperta corta. La coperta è lunghissima. Allora stanno investendo per quello che è giusto fare. Hanno preso Stulaz e Saric che in serie B sono forti. E non potevano uccidere un gruppo. Ora Gennaio investiranno ancora. Chissà chi sarà l'allenatore però. Un abbraccio a tutti. Dal Rosa Nero d'Inghilterra. E forza Palermo sempre.